Colazioncina di oggi, vediamo, non ho tantissima fame Potrei mangiare questo yogurt Oppure uno alla fragola Quasi quasi Mangeremo uno alla fragola Qui c'è Gatto Denver Ciao Ma quanto chiacchieri tu che sei un gattino tutto bianco e un poco arancione Sei tutto bianco, sì sì, un poco Un poco poco arancione Poco arancione Gli sto pulendo l'acne Che ha sotto al mento Ma c'è ancora un pochina Alcuni mi hanno scritto che si tratta delle ciotole in plastica Se gli viene l'acne Ragazzi le nostre sono tutte in ceramica Quindi sicuramente non può essere quello Secondo me è stato un po' lo stress Perché è venuto un po' a tutti e adesso sta andando via La gatta cattiva Gatta beta Che in realtà è buonissima Ma detesta Denver Ciao amore, sei super affettuosa tu E cammini come una papera Sei tutta bianca e un po' a macchie Come una mucca Sì 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 Sei bellissima Adesso si spapparanza Spiaggiata Come dice Eric Spiaggiata Ciao Max Quando distribuisco coccole arrivano tutti Ma ciao Max Gatto Max Gatto Max Dai baci Dai baci Vi do i baci ragazzi Vi do tanti baci Ah pure il saltino ha fatto Amore mio Non aver paura Della gatta cattiva Voi due sempre insieme Sempre insieme Loro si adorano Veramente Non so come facessero a vivere l'uno senza l'altro Amore mio Amore mio Sì però Se non mi portavi la gatta cattiva ero più contento Catabetta Catabetina Sei bellissima Ma sì Sei bellissima La mia colazione Yogurt con pezzettoni di fragola Un po' misera Ma ragazzi Stamattina non ho per niente fame Calcolate che ho dormito Tipo 5 ore stanotte Perché ho finito di montare il video alle 3 e mezza Ieri No erano le 3 Solo che poi internet non funzionava Ed ho cercato di farlo funzionare Ma non c'era verso Ma sono l'unica che con la team Ha anche con il telefono di casa Soprattutto con il telefono di casa Sono l'unica ad avere un sacco di problemi Cioè a volte la connessione proprio non funziona E non c'è niente che io possa fare per farla funzionare Riavvio il modem Voi che ve ne intendete Consigliatemi Io riavvio il modem Stacco e riattacco il cavo Della corrente Ma appunto stanotte non funzionava assolutamente Ci ho provato in tutti i modi Mi sono detta Oh mio dio non è che ho dimenticato di pagare la bolletta Ho verificato Ma no Le bollette sono tutte pagate Quindi sono andata un po' nel panico Perché poi oggi avrei dovuto crecarlo il video Quindi non sapevo cosa fare Volevo quasi mettermi a chiamare il servizio cliente Alle 3 e mezza di notte Rendiamoci conto Poi mi sono detto Ok forse domani mattina mi sveglio Ed è tutto passato Effettivamente mi sono svegliata Ed era tutto passato E funziona di nuovo Quindi non so che cosa sia successo Ma di solito Quando devono fare qualche cosa Dalla team Noto che lo fanno di notte Probabilmente hanno ragione Perché magari la gente se ne accorge di meno Tanti dormono Ma io no Io ci sono team ok E vorrei avere internet comunque Poi alle 3 e mezza Sono andata a dormire E mi sono svegliata stamattina Alle 8 e 50 Quindi Non so quanto ho dormito Sì 5 ore è forse qualcosa Quindi Non ho per niente fame O sonno In realtà È già tardi Faccio colazione adesso Nonostante sia tipo l'una Perché Sono venuti a montare la soglia E i profili interni ed esterni Della porta blindata Che ho appena installato Quindi appunto Ci hanno messo 4 ore Quindi sono dovuta star qui E nel frattempo ho fatto Un sacco di lavoro al computer Ma sono molto contenta Perché avevo tipo 20 email Dovevo rispondere E ce l'ho fatta Devo anche uscire Ma credo che i negozi Fino alle 3 e mezza Siano chiusi Quindi Nel frattempo mi preparerò Poi Tra un po' Arriverà Giulia Qui E mi porterà Che era la sua bimba La guarderò Staremo insieme Per un'oretta e mezza Perché Giulia ha un corso di formazione E E lì Il papà lavora Quindi Starò io con la bimba Sono super contenta Ma anche molto emozionata Perché è tipo la prima volta Che stiamo io e lei da sole Quindi sicuramente Ci divertiremo Però È la prima volta Quindi sono tutta super emozionata Vabbè Comunque Adesso Allora Facciamo questa colazione Super misera Che poi dovrebbe essere un pranzo In realtà Ma Non ho fame Quindi c'è già questo E tanto E Poi mi preparo Viene Giulia con la bimba Starò un'oretta e mezza Con lei E giocheremo Specialmente con Gatto Max Che lei adora Lei adora Gatto Max Tutti i gatti che vede Li chiama Gatto Max E lui si presta molto Con i bambini Gli piace tanto giocare E poi Invece Esco Devo fare alcune commissioni E Dopodichè mi vedo con Valentina La mia amica L'altra mia amica Quindi E basta Questo è quanto Nel frattempo Ho fatto anche un sacco Di faccende domestiche Ma roba molto noiosa Che probabilmente Non mi interessa Ma Questo è quanto Anche questa è la vita Figa di una youtuber Figa Insomma Anche questa è la vita Di una youtuber Nel frattempo Mi sto truccando Anche perché Non penso di poterlo fare Quando sarò con Keira E quindi Prima che arrivino Approfitto Anche perché poi Quando tornerà A prenderla Io dovrò Subito 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 Uscire Prima se riesco Devo fare anche delle cose Non sono sicura In centro Ma ci proveremo Comunque Fatta la base Fatto il contouring Come Fondotinta Ho usato ragazzi Lo sto adorando L'Infallible 24 hour Fresh wear Di L'Oreal Quando l'ho provato Nel Get Ready With Me Non so cosa fosse successo Ma secondo me Era il primer di Kiko Che non funzionava tanto bene Perché lo sto provando Con altri primer Oggi ad esempio Ho usato L'Hangover Primer Di Too Faced E l'ho usato molto Anche con il primer Quello di Benefit Ovvero il The Porefessional E con entrambi i primer Ragazzi funziona Da dio Amo Amo l'effetto Che ha sulla mia pelle Questo fondosita Non so cosa fosse successo Nel Get Ready With Me Che non mi era piaciuto Per niente Ma con il primer giusto Funziona da dio Adesso ho fatto un po' di contouring Sempre con la mia hula All'interno della palette Cheek Leaders E poi Blush Sto usando un sacco Il Dandelion Sempre da questa palette Sto cercando di applicarlo Un pochino più in alto Il blush Perché ho notato che Sbagliavo E l'applicavo un pochino Troppo in basso Quindi E sorrido sempre Quando lo applico Sono dieci anni Non lo sapete Io sappia benissimo Dove applicarlo Devo sorridere sempre Ne applico sempre troppo E poi lo sfumo Un po' con le dita Perché Ti metto un po' Sagerato Ah lo vedete Cato Demer Cato Demer E che è full coverage E oggi avevo bisogno Di un correttore Full coverage Perché sono tipo 4 giorni Che dormo 5 ore Perché la notte Lavoro fino a tardi Sui video E poi la mattina Ho sempre qualche impegno E mi sveglio presto Quindi alla fine Non riesco a dormire niente Ma domani ragazzi Chi mi sveglia Lo uccido Cioè domani dormo Fino a luna di pomeriggio Come minimo Allora Anche perché domani Anche Eric è libero Quindi spero che anche lui Riesca a dormire Poi lavorerà La notte E io invece domani sera Ma perché vi sto raccontando la mia agenda Invece domani sera Filmerò un sacco di video Allora Poi passiamo Ah tra l'altro Ho finito la matita sopracciglia Fenty Beauty Ragazzi Pazzesca Il mio colore Era il Medium blonde E l'ho adorata E la tengo Solo per poter utilizzare Ancora lo scovolino Pazzesco Che ha Perché non avevo mai visto Uno scovolino così E l'ho adorato Peccato averla già finita Mi è durata poco Devo dire Ma quelle automatiche Mi durano sempre molto meno Rispetto alle matite normali Succede anche a voi O solo Solo a me Adesso userò Per gli ombretti La gingerbread cookie Di Too Faced Perché Ragazzi Vabbè Ce l'ho tipo da tre anni E ho iniziato ad usarla L'altro ieri Praticamente Non so perché Ma Era rimasta Nelle palette Di Too Faced E quindi Questa in realtà È tipo una palette Di una collezione Christmas Di una collezione Natalizia Appunto Tipo del 2017 2016 Però io la sto usando E l'ho scoperta adesso E i colori Non sono Vabbè che è un po' Un disastro Ma non sono niente Niente male Molto molto carini Vabbè stendo un color carne Su tutto l'occhio E poi faremo giusto Un marroncino Semplice Niente di esagerato Anche perché Insomma A parte Uscire Con un'amica E fare qualche commissione Non devo fare Anche se in realtà Anche quando non devo fare Granchè Esagero con il trucco Dipende un po' Da quanta voglia ho Ultimamente Lo sapete che in estate Praticamente non ho usato ombretti Invece ultimamente Sto tornando a fare I miei classici smoky Sul marrone Che come sapete Sono il mio go to look Amo 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 Gli smoky Sui toni del marrone Un po' Su tutte Veramente Su tutte le colorazioni di occhi Stanno bene a tutte E sono super semplici da fare E non essendo nero E anche molto più facile Da sfumare E da realizzare Come trucco Tra l'altro Cioè Bianca come sono Non potrei mai Andare ad usare il nero Per un trucco da giorno Perché sarei veramente Un pochino Esagerata Tipo un po' Effetto dark In inverno Lo sapete Sono un fantasmina Non è un Non è un segreto Guardate Ho un piccolo trucchetto Eccomi qua Buongiorno tesori Ciao nonna Mi fa morire da ridere Max Perché gli piacciono un sacco i bambini E quando c'è Keira Si mette sempre Appiccicato a noi Max Non puoi avvenire così Vero Max E guardiamo Peppa Pig Stiamo facendo un'altra merendina Con un po' di tela pesca E crostini Notare Max Che continua a saltarle in braccio Che c'è Keira Che c'è Keira Non dico C'è Keira Dai D'accordo C'è Keira Se la gara la facciamo in discesa Va bene C'è Keira C'è Keira A questo corso di formazione E però vabbè Prima ve l'ho spiegato in velocità Ma era davvero bellissimo Il fatto che la bimbo Si fosse divertita così tanto Come che non voleva più lasciarmi andare Non vedo l'ora di tenergliela di nuovo Perché mi sono divertita Ci siamo divertite Ed è stato bellissimo Ero un po' preoccupata A dire il vero Perché è la prima volta Quindi super responsabilità Però è stato bellissimo Ci siamo divertite di brutto E adesso niente E tra un po' tornerò a casa Ciao Gata Beta Ciao Gata Beta Oh Sei bellissima Sei bellissima Hai la coda da lontra Gata Beta hai la coda da lontra Sì Nel frattempo ragazzi Guardate che meraviglia Mi è arrivata da Wai Con questo super pacco Gigantesco Tornata a casuccia finalmente Mi sto un po' preoccupando ragazzi Perché il mio terzo piercing Lo vedete Si è infettato Mi sono svegliata ieri Con C'è un orecchino che ho da Non lo so Sette, otto mesi Completamente infettato Con pus eccetera Quindi mi sono super preoccupata Ho detto oddio Devo toglierlo Cosa devo fare L'ho pulito L'ho lavato Ci ho messo la pomata antibiotica E adesso che ho visto la mia amica Valentina Che come ben sapete È un medico dermatologo Lei mi ha consigliato di disinfettare E di metterci un altro tipo di pomata Con il cortisone Quindi cercherò di salvare Questo orecchino Perché ragazzi Non lo so che cosa sia successo Lei dice magari di notte Mi si è Dormendo da questa parte Qualcosa deve essere successo Perché era completamente cicatrizzato E adesso mi fa di nuovo malissimo Ed è tutto infettato Se è capitato qualcuno di voi Aiutatemi Datemi consigli Ditemi in quanto tempo vi è passato Vi prego Cioè Consolatemi un po' Perché sono un po' scoraggiata Perché mi ha dato un sacco di problemi Questo orecchino Tipo dall'altra parte Ne ho quattro Nessun problema Da questa parte Il telsum Mi dà un sacco di problemi Vabbè Speriamo passi in fretta Che tra l'altro Nemmeno il piercing C'è sulla lingua L'omberico Mi ha mai dato problemi Cioè Quello sul lobo Praticamente Un po' più in su Sulla cartilagine Sì Vabbè E anche se aspetto Eric Per mettere sulle bistecche Perché altrimenti Quando viene Le mangia fredde E nel frattempo Sto anche guardando Un video di Demelza Che è questo Se non la conoscete Demelza Se mi seguite da un po' La conoscete Quindi lasciate stare Lo sapete già Ma se non la conoscete Demelza È la mia amica Olandese Ed è da lei Che andiamo sempre Quando siamo in Olanda E lei ha un canale Di nail art Si chiama Demelza Sword Magari ve lo metterò Qua in sovraimpressione Seguitela Perché lei è La più brava Su Youtube Per quanto riguarda Le nail art Ragazzi È pazzesca Fa video in inglese Anche in olandese In realtà Ha due canali Ma insomma Quelli in inglese Sicuramente riuscite a seguirli Stiamo guardando Le iene Con i gatti Praticamente Non mi posso muovere La tostellina è là Gatta beta è qua Gatta beta Signora Salve Salve Che faccio a fare Gatto Max Vuoi far vedere Anche in videocamera Che È sempre dei punti di domanda Sì Che ti guarda Con questi occhi sgranati Tondi Sono qua Quindi Gatto Max Gatto Max Adesso è stanco Gatto Max Sì sì Stanno subito Si riativa Guarda Max Sì Per cosa sta succedendo Gatto Max Stai fermo Mi piace Sì sì Le grattatine Mi ha scompigliato Tutto il pelo Scompigliato Il gatto Denver Non si sa dove sia Probabilmente Il gatto bianco Il gatto bianco Obeso Il gatto beta Lo odia Penso che sia lì Sulle sedie Quando c'è gatto beta Il gatto Denver non c'è Prima o poi L'ha ucciso Sì Io Un giorno voi non ci sarete Io lo farò fuori E me lo mangerò Pranzo e cena pure Penso C'è abbastanza sostanza E nel frattempo Stiamo guardando Le iene In tv Cosa? Oh Saper come va Con i brufoli Eh perché sai Che noi giovani Abbiamo i brufoli A differenza di voi vecchi Vero? No va bene Quando li copro Con il fondotinta Va molto bene Sì Guardate cosa ha mangiato Nicole Scusa e tu? Guardate cosa ha mangiato Nicole Ho appena finito Di mangiare Ragazzi è buonissimo Magno un double chocolate Con il cocco Coconut double chocolate Buonissimo Perché tu non l'hai mangiato? Sì ma io non l'ho bello Ah 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 È bello Ora Guarda che adesso Che hai detto così Domani ne hai due Minimo Sì Sì È buono Va bene Povero gatto Denver Guardalo come ci guarda È mimetizzato È mimetizzato Ma Ma Paolo Lui vorrebbe venire qua Ma c'è la gatta cattiva La gatta cattiva Si mimetizza Nell'ambiente Povero Tutto bianco Sulle sedie Tutte bianche La tastellina Cosa dici tu La tastellina Non ha mai voglia Lei è proprio la faccia Dalla c'ho voglia Mi sto per addormentare C'ho voglia Invece qua Il T-rex Sei un T-rex Gatta beta Guarda il doppio mento Scusa Oddio Oddio Dove va adesso Ah no Si posiziona Si posiziona Sono posizionata qua E basta Ok ragazzi Praticamente ci siamo addormentati Entrambi sul divano Mentre guardavamo le iene Ma io oggi sono veramente distrutta Quindi vado proprio a nanna Cioè la vecchiaia si fa sentire Che mi addormento Tipo vabbè In realtà a mezzanotte però Di solito sto sveglia fino a tardi Voi lo sapete Quindi per me è molto atipico Addormentarmi sul divano Non lo faccio mai Ma oggi sono proprio stanca Quindi vado a nanna Vi mando un bacio grandissimo Devo struccarmi Voi mi capite Voglia zero Come sempre Ma bisogna farlo E Si se vedete il mio orecchio È perché È tutto rosso Ma non è sangue Tranquilli È solo il disinfettante Che è di questo colore Però Spero che guarisca Il mio povero orecchio Il mio povero piercing Comunque Un bacio grandissimo Mia family Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao